Sarà più lunga la stagione delle Terme di Acqui, rieperte per quanto concerne lo stabilimento di via 20 settembre da lunedì 15 fino al 16 novembre, con pausa estiva dal 1 luglio al 3 agosto e dopo alcuni problemi tecnici che si erano presentati lo scorso anno imponendo lo stop decipato ad alcune attività, al via tutti i reparti si sono fatti trovare pronti e a pieno regime, mentre le prenotazioni sono state avviate senza registrare al momento un vero e proprio boom che comunque dovrebbe verificarsi dopo la pausa estiva, tra le richieste al primo posto i fanghi con prenotazioni che stanno arrivando da tutta Italia, isole comprese, poi curve inalatorie, irrigazioni e piscine. La prolungata apertura è un segnale di ottimismo per tutto il tessuto economico acquese, in primis per il settore ricettivo ma anche per quello commerciale, infatti la crisi che aveva colpito le Terme negli scorsi anni aveva inciso notevolmente su tutte le attività economiche di Acqui, che ora punta anche la riapertura dell'hotel Nuove Terme e della piscina monumentale in zona bagni senza dimenticare l'hotel Regina. Il comune sta lavorando per un rilancio generale e per spezzare il monopolio attualmente in mano alla Finst System della famiglia Pater, ma intanto nella città termale si respira un'atmosfera diversa, anche in vista del 2025 quando scadano i termini delle concessioni sulle acque termali. Il comune e la regione si tengono pronti per un momento che potrebbe significare un ritorno della pubblica amministrazione nella gestione. La regione in primis aveva confermato di voler proseguire nel suo proposito di recuperare ampi margini di manovra su un settore fondamentale per l'economia del territorio piemontese.